buonasera ore 21 e 40 del 17 marzo venerdì 17 marzo 2023 voglio parlare voglio chiacchierare comunque le di costa le dice da quelle di nastrino a prescindere salutano questo video lo voglio intitolare non cercare la magia se sei puntini sospensione uno degli errori più grossi che nascono dal dalla cattiva fama creata sulla magia dalle religioni dal folklore dai romanzi dai libri dai film e tanto altro è quello di far credere che la magia serva per vivere meglio ed è proprio su questo punto che viaggiano su un binario preferenziale i truffatori e i ladri magici perché perché uno spirituale una persona spirituale potrà aiutarti a capire determinate situazioni per risolverle per aiutarti a comprendere come risolverle in maniera spirituale ma non lo farà promettendoti che vivrai meglio anzi normalmente più si apre la spiritualità e più perdi il contatto in qualche modo con il mondo terreno tantissime questioni terrene come l'orgoglio come la gelosia l'invidia gli ideali i principi vanno a remengo non te ne frega più niente sono mentalità umane l'essere umano purtroppo è anche propenso come diceva il grande jung uno dei pochi psicanalisti che mi sia mai stato simpatico è propenso alla proiezione di sé sugli altri per esempio vi faccio un esempio che è capitato se non a tutti penso a un 90 per cento delle persone l'abitudine quasi come regola quando qualcuno è triste e disperato gli viene da piangere di guardarsi allo specchio e più ti guardi allo specchio più piangi ma continui a guardarti allo specchio quella è la prima in assoluto il primo in assoluto sintomo di proiezione seppur sia su se stessi quindi vedere un'altra immagine di qualcuno che piange fai in qualche modo rassicurare il te che sta piangendo anche se quell'immagine è la tua fa parte dell'egoismo umano poi ci sono altri tipi di proiezioni come diceva una nota scrittrice anni fa ricorda che quando punti il dito verso qualcuno altre tre dita sono puntate verso di te normalmente è vero il detto che dice che quando uno critica è perché invidia dipende dalla critica ovviamente ci sono critiche costruttive critiche ragionate perché io posso criticare un'azione fatta da qualcuno non quella persona se io critico una sua azione è un mio parere una mia opinione sull'azione che ha compiuto per me è un'azione disgustosa per me ha fatto bene chiunque può dare un giudizio su un'azione compiuta nessuno può dare un giudizio su chi l'ha compiuta ah quello lì fa sempre così anche nelle cose minime un colore il grigio tanto perché ce l'ho addosso se io ti chiedo secondo te com'è il grigio un conte che mi dici il grigio non mi piace oppure il grigio è un colore che mi piace molto il grigio come mi sta ma il grigio su di te smorta ti fa sembrare più sbiancata oppure il grigio su di te sta benissimo riprende l'alone sugli occhi e fa un effetto fantastico è un'opinione sul grigio su di me con quel colore stai malissimo sei brutta è un'opinione sulla mia persona che diventa brutta con quel colore non è il colore che mi sta male ma sono io che divento brutta con quel colore questo non è un parere è un giudizio sul mio aspetto personale contornato da quel colore di conseguenza è un giudizio sulla mia persona c'è una notevole differenza e questo lo dico sempre tra l'essere sinceri l'essere schietti l'essere diretti e l'essere maleducati ma in questo video qua analizzo solo i maleducati i maleducati proiettano le loro insoddisfazioni sugli altri una persona che critica un'altra persona è perché ci si sente in difetto perché ci si sente inferiore perché in qualche modo lo invidia a torto o a ragione che sia questa invidia e in qualche modo cerca di sminuirlo per farlo arrivare al proprio pari che ritiene però inferiore questo non è egocentrismo è psicologia spicciola proprio tu noterai sempre negli altri i difetti che su di te non piacciono cercherai sempre di trovare l'errore che sei tu negli altri la spiritualità dovrebbe insegnare a non trovare questi errori a non paragonarsi agli altri perché non sai cosa hanno dietro nella loro storia questi altri ma questa può sembrare una morale basta che non ha nessun senso di logica con il paranormale ci proteggiamo dalle invidie con le tormaline con i cristalli iialini con le ossidiane con le purificazioni dal palo santo adesso è spento quanto mi piace la dora del palo santo dal palo santo alla salvia bianca che ho da qualche parte ma non mi ricordo dove a mille mila anche la collana con la croce del cristo cristiano o il libretto col passo del corano inciso o i mille mila talismani orientali asiatici e quant'altro ma molto molto spesso queste negatività ce le tiriamo addosso da soli provando quei sentimenti e senza rendersene conto a volte a volte anche rendendocene conto questi sentimenti ci portano realmente sfiga poi c'è la questione anche delle protezioni appunto torniamo al discorso magico della magia una tormalina la mia è grossa ce ne sono di più grosse ce ne sono di piccolette da tenere al collo o da tenere al bracciale o in tasca ce ne sono di tutte le misure la tormalina è un minerale è una pietra e quindi viene tagliata utilizzata trovata in natura di tutte le dimensioni ho detto la tormalina avrei potuto dire l'ossidiana l'onice lo ialino il rutilato e moltissime altre pietre considerate di protezione tutte le pietre di protezione che siano quelle assorbenti le pietre nere o che siano riflettenti le pietre trasparenti le pietre bianche che fanno da scudo in ogni caso proteggono solo da cose mandate da altre persone ma non ti proteggeranno da ciò che tu emani perché ciò che tu emani lo stai emanando tu lo stai facendo vibrare tu quindi quando noi notiamo qualcosa di malevolo da parte degli altri molto spesso è perché quel sentimento lo conosciamo bene dentro noi stessi questo è un po' per tutte le cose ma in magia è un rischio nonostante ci siano questi quattro maghi da strapazzo quattro magari fossero quattro questi quattro milioni di maghi da strapazzo che cercano di farti spendere dei soldi con la promessa di farti vivere bene e poi magari loro sono divorziati otto volte con quindici figli a carico e con l'assegno di mantenimento statale perché non riescono a sbarcare il lunario questo vuol dire che già tanta magia non ce l'hanno per quello che promettono io studio ritualistica esoterismo occultismo storia del paranormale e quant'altro da 40 anni e ho le pezze al culo ma proprio le pezze al culo nel senso vero della parola io però non ho mai detto a nessuno che con la magia poteva diventare ricco e non lo faccio neanche io ci sono ovvio dei riti e dei rituali che possono portare degli incrementi anche finanziari come altre tipologie di incrementi ma siccome tutto ciò che chiedi con un rituale ha un effetto uguale e contrario su un'altra questione se vuoi una cosa ne perdi un'altra e l'ho detto mille volte non ci penso neanche a perdere salute o vita serena in famiglia amore in famiglia per dei soldi preferisco continuare a tenermi le pezze al culo mio libero pensiero ognuno su se stesso può fare ciò che meglio crede ma i ritualisti che promettono queste cose sono assurdi dal mio punto di vista perché se tu hai la capacità di non so neanche se ce ne ho ancora ogni sto cosa ho comprato uno di questi per provarli ma niente ti ammazzano preferisco le solite sigarette sto robo boh boh ma eppure boh sarebbero ricchi loro non avrebbero bisogno di vendere i loro incanti quindi o non funzionano i loro incanti e quindi non ne sono capaci che è quello nel 90% delle volte la soluzione perché uno che cerca di truffarti se potesse con la magia diventare ricco sarebbe miliardario quindi vuol dire che non è capace la magia non è facile non sono quei quattro ritualini che trovate sul web copiati rimescolati riarmonizzati è un po' più complessa ma a prescindere che ci siano dei rituali più semplici dei rituali meno semplici dei rituali che richiedono un certo impegno e rituali che si possono fare in 20 minuti a seconda dei casi fare delle magie per se stessi significa accettare di pagare lo scotto per se stessi ma mica perché è un incantesimo non è l'incantesimo che ti fa pagare lo scotto ma è la tua vibrazione il tuo comportamento la tua motivazione quando tu fai un incantesimo cattivo verso qualcuno cattivo nel senso con l'intenzione di fare del male a qualcuno poi ti arriva da qualche parte una vibrazione negativa che ti spacca qualcosa non è quello che tu hai mandato cioè non è che se io mando una fattura a morte a qualcuno che mi sta sulle balle così perché sono stronza di mio dopo domani muoio io io potrei anche non morire magari mi muore il gatto il cane il figlio il fratello il cugino il papà il nonno perché perché la botta intera è districata a livello distanziato in più parti se io invidio e non si tratta di magia come dicevo prima ma si tratta di vibrazione se io invidio il successo di una persona mi arriveranno magari mille problemini riguardanti la fatica di vivere se io mento dico una bugia per screditare una persona o cerco di screditarla sottolineando i suoi difetti ad altri mi arriveranno delle botte di ritorno quindi agli occhi di qualcuno o di qualche cosa che per me è importante niente gnavo mi accendo la mia sana sigaretà normale e vai a cagare guazzabuglio moderno chi lascia la via vecchia per la nuova sa cosa perde e non sa cosa trova quindi usare la magia per se stessi per migliorare la propria vita materiale ci porta inevitabilmente a doverne pagare le tasse quando tu ti compri la macchina prendi la patente e ti compri la macchina premetto io la macchina non ce l'ho ma non la vorrei non ce l'ho una lira non me la potrei neanche permettere ma anche me la regalassero non la vorrei io vado a TSV tacchessuole veloci qualche volta TSL tacchessuole lente a seconda come me gira ma quando tu ti compri la macchina oltre alla benzina oltre all'assicurazione che è obbligatoria paghi anche il bollo che cos'è il bollo voi pagate tutti il bollo perché la macchina ce l'avete tutti in famiglia perché ormai siamo rimasti io e forse un'altra persona al mondo a non avere la macchina perlomeno nel mondo civilizzato ma quando voi pagate il bollo cosa state pagando state pagando una tassa sulla proprietà cioè voi pagate per poter tenervi quella macchina che per voi è una comodità che avete già pagato in contanti ma continuate a pagare uno scotto allo state quando voi andate in pensione dalla pensione vi levano le trattenute ma le trattenute su quelle marche della pensione che state prendendo quando andate in pensione erano già state prese sulle vostre buste paga quando lavoravate in regola eppure per continuare a prendere la pensione dovete accettare di pagare lo stesso le trattenute quando voi avete la casa di proprietà la prima casa ora come ora no un tempo anche la prima casa ma se avete più di una casa nonostante l'abbiate pagata in contanti nonostante l'abbiate ristrutturata ci avete speso soldi ci pagate le utenze quindi gas luce telefono che che sia internet e via dicendo ci pagate anche l'ici che è una tassa quindi uno scotto che voi pagate allo stato in quel caso per avere il beneficio di avere quella casa quando voi chiedete con un rituale qualcosa qualche beneficio per voi stessi pagherete una tassa per il beneficio che avete chiesto e a seconda del valore del beneficio la tassa sarà più o meno elevata alcuni lo chiamano colpo di ritorno ma è semplicemente il controbilancio dell'universo nell'universo è tutto bilanciato se ti arriva più tanto di una cosa se ne andrà un tot di un'altra pensate a tutto quello che uno nella vita ha sempre fatto persone che hanno lavorato come muli per metà della loro vita a un certo punto non possono più lavorare persone che hanno sempre camminato tanto sono usciti tanto hanno viaggiato tanto a un certo punto della loro vita non potranno più viaggiare non potranno più camminare non potranno più andare in giro hai mangiato tanti dolci ti è arrivato il diabete hai mangiato tanti grassi ti è arrivato il colesterolo hai è tutto tutto ciò che tu fai troppo sempre in più arriva a un certo punto che l'universo te lo bilancia non facendotelo più fare in magia ancora di più perché è una forzatura tutto ciò che tu fai a livello rituale è una forzatura non è nel destino ma tu forzi per farlo arrivare quando lo fai per te stesso il il ritorno di quella vibrazione è solamente un debito il bilanciamento universale si basa su debiti e crediti all'universo ma l'universo non è un essere pensante è lì che dovete uscire dalla mentalità religiosa l'universo è uno status di ragnatela vibrazionale che si comporta come una causa effetto non c'è una mente che vi sente che vi ascolta che pensa quella sta facendo una cosa giusta quella invece deve essere punita no non c'è un giudice non esiste non c'è proprio un essere ragionante quando tu fai qualsiasi azione anche solo spostare la mano così ci sarà una reazione uguale e contraria a ciò che tu hai fatto quando tu emani una vibrazione ci sarà un effetto vibrazionale che ti ritorna addosso della stessa intensità che tu hai emanato che l'hai emanato per bene che l'hai emanato per male non gliene può fregare niente a nessuno ma c'è un ma quello che dicevo prima i debiti e i crediti ogni volta che tu fai un gesto un gesto però dettato dalla tua vibrazione dalla tua coscienza dal tuo sé interiore a beneficio di qualcun altro di qualche altra cosa e via dicendo che non è una questione egoistica ma è proprio un dare con la volontà di dare e basta senza nemmeno aspettarsi un ringraziamento acquisti un credito perché hai emanato una vibrazione di volontà di aiuto gratuito pulito senza un ritorno senza l'aspettativa di un ritorno quindi nel momento in cui tu cerchi un qualcosa per te hai da bilanciare tutto quello che tu hai dato in qualche modo a livello vibrazionale non sto parlando di soldi o del piatto di pasta sto parlando a livello vibrazionale nel momento in cui tu ti aspetti un ritorno o hai un ritorno di gratificazione voluto richiesto non hai acquistato nessun credito se io ti aiuto in cambio di si è già parificata la vibrazione ho già ottenuto uno scambio lo scambio non dà credito non dà neanche debito ma rimane invariato quindi nel momento in cui tu chiederai qualcos'altro entrerai in debito è difficile da comprendere ma questa è la spiritualità io quando qualcuno mi chiede una mano un aiuto per qualcosa nel limite delle mie possibilità a livello personale a livello finanziario lasciate proprio perdere ogni tanto lo dico anche alle amiche o conoscenti che mi sbattono in qualche d'uno dei gruppi dove ci sono aste vendite e via dicendo che io dico sempre cari miei se aspettate che io compro qualcosa fate notte perché io non c'ho una lira anche volendo è inutile che mi ci infilate in quei gruppi in quei forum perché proprio più che guardare le immagini e dire che carino che è quello non faccio cioè no che faccio ma a volte anche senza che mi venga chiesto un aiuto se vedo che una persona ha bisogno di una mano anche solo con un like ci sono persone che lavorano con internet e ci sopravvivono e con internet non fai i soldi non sei in televisione mettere un like non mi costa niente fare un condividi di una pagina di un video non mi costa nulla guardare un video guardare una pagina internet non mi costa nulla è gratuito per me ma sto facendo fare un piccolo scatto a qualcuno che magari ci sta lavorando con quello e io lo faccio sempre sempre e sempre volentieri anzi non sopporto quelli che criticano per esempio nelle pagine ecco mettono quei titoli per incuriosire le persone si mettono quei titoli per incuriosire le persone perché se tu apri quella pagina che per te è gratis aprirla non ti costa nulla ti costa cliccare toccare un attimo quel cavolo di telefono che tanto c'hai sempre in mano tutto il giorno quello o quella che sia ha guadagnato un centesimo tre centesimi quando proprio gli va di lusso e allora se non li devi tirare fuori dalla tua tasca perché criticare è un lavoro è un lavoro come un altro quindi ti sta bene quell'articolo ti incuriosisce a quel titolo aprilo e leggilo non ti incuriosisce ti dà fastidio non aprirlo vai avanti ma che senso ha scrivere mettete sempre titoli che poi non sono e allora ti rode il culo perché vorresti aprirlo ma per cattiveria personale perché è solo cattiveria quando uno scrive non lo apro perché tu vuoi solo attirare i click sei cattivo non è cattivo quello che ha messo il titolo interessante anche se poi l'articolo fuorviava il cattivo sei tu che fai quella quel pensiero quando tu ti imponi dicendo eh io l'ho aiutata tanto quella lì ma non ho mai avuto niente in cambio non è lei o lui che sia che è cattiva perché non ti ha dato nulla in cambio il cattivo sei tu perché hai aiutato volendo pretendendo un qualcosa in cambio e nel momento in cui tu ti aspetti un qualcosa in cambio non sei più il buono della situazione nel momento in cui sottolinei io ho aiutato tanto ma non ho mai avuto un riconoscimento vuol dire che lo facevi per avere riconoscimento perché altrimenti non ci avresti nemmeno pensato a quella frase quindi tutto il tuo aiuto che gli hai dato anche per anni è stato un mero gesto egoistico che a livello vibrazionale di credito con l'universo non è servito a nulla inoltre lo stronzo della situazione sei tu e non ti ha ricevuto l'aiuto la magia è potente se studiata se seria se vera per fortuna non riesce nel senso vero della parola a studiarla quasi nessuno e quei pochi che la conoscono davvero sanno bene come va usata e non sono di sicuro quelli che vi spillano soldi promettendovi di farvi diventare miliardari e ripeto per fortuna meno male io parlo di riti di magia non sto parlando di veggenze di consulenze di una chiacchierata per sfogo quello è nel libero arbitrio ripeto l'ho detto già tante volte una veggenza è considerata una consulenza persino dalla legge quindi se tu hai tanta necessità di farti fare una consulenza da qualche cartomante da qualche veggente da qualche persona che comunque ti ascolti perché vuol dire che in quel momento hai bisogno di parlare ti sta facendo una consulenza e quindi è giusto che ti faccia pagare un tot per il tempo che sta lì ad ascoltare i tuoi problemi perché se tu andassi dallo psicologo invece che dal veggente o andassi dallo psichiatra o andassi da qualsiasi parte dove hai bisogno di una consulenza fosse anche l'avvocato stesso tu quella consulenza la paghi e anche il veggente che lavora con un aiuto morale spirituale oracolare veggentico una persona perché ripeto le attrezzature veggentiche i tarocchi le rune via dicendo vi dicono come vi danno un consiglio su come dovreste muovervi in una determinata situazione io fortunatamente non le faccio e manco morta le farei tranne il mercoledì interattivo che ve lo faccio con il video ma io non faccio veggenze lo dico e lo dirò in eterno però sono tutti strumenti di consiglio se io ti dico se tu mi chiedi io non lo faccio ripeto e sottolineo non lo faccio ma se io fossi una cartomante e tu mi chiedi ma c'ho le corna si vedo una donna scura di capelli e come faccio a scoprire se è vero le corna ce l'hai mo vedi te se vuoi avere altre prove seguilo pigliagli il telefono che ne so chiedi in giro assumi un investigatore privato che te devo dire e io ti posso dire com'è la situazione io no ripeto io no continuo a ripeterlo perché non si sa mai si capisse male chi vi fa le veggenze vi dice la situazione intorno a voi com'è su quella tematica ma poi siete voi ad agire ma lui torna le carte dicono di sì non significa torna rimane con te per tutta la vita e morirete insieme da anziani significa che c'è riprova che torna una volta ma poi dipenderà sempre e comunque dal vostro modus dal vostro comportamento da come prenderete quella situazione perché il fatto che torna non significa che resta per di più se vi comportate male anche prima perché sapevate con certezza che tanto torna poi non torna perché lo cambiate voi il destino per quella volta ho detto che nel momento in cui una veggenza si viene a sapere la si può anche cambiare se io nelle carte vedo che morirò in Messico l'anno prossimo io l'anno prossimo in Messico non ci vado magari crepo uguale ma non muoio in Messico e quindi poi posso dire la veggenza posso dire mentre sto morendo la veggenza era sbagliata ma grazie al pifero sapevo che era in Messico e non ci sono nata l'ho cambiato io il destino era quello il senso comunque ho sfarfallato fino a troppo ma io spero che vi sia chiaro per l'ennesima volta il concetto di cosa sia e cosa non sia cosa dovrebbe essere cosa non dovrebbe essere la magia e l'utilizzo della magia ma non solo quella anche l'utilizzo delle nostre vibrazioni perché noi vediamo negli altri ciò che abbiamo dentro di noi una frase bellissima recita me la sono segnata le persone infelici hanno una specialità evidenziare i difetti altrui e io ci aggiungo perché non hanno il coraggio di guardare i propri stasera un po' di filosofia esoterico di vita ma ogni tanto ci vuole anche un po' di chiacchierata così perché ogni tanto rinfresca le memorie di chi già sa e magari fa capire meglio il primo passo per la spiritualità e per la comprensione dell'invisibile è sempre quello di imparare prima di tutto a comprendere noi stessi finché non riusciamo a capirci non riusciamo a pulirci dalla negatività nostra personale che noi stessi emaniamo non potremo mai né essere spirituali né riuscire ad avvertire la spiritualità e l'invisibile intorno a noi perché questa negatività che noi emaniamo ci copre ci chiude ci opprime le di ghost le di sadaku e le di nastrino risalutano qui sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto tre o quattro degli invece millemila link che tengono invenite i miei libri sempre sette sono sembra sette ma lo stavo arriva arriva ciao 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 Grazie.